Ciao a tutti, sono Alessandro Roncacci, Presidente dell'Officio Medico di Afidea. Afidea è il miglior progetto pan-europeano in avanzata diagnostica, servizi di autopatienti e terapia di cancerale con un'unica network di più di 300 centri in 15 paesi. Sono molto felice di essere un pareratore di una conferenza di Reuters e di presentare l'intelligenza artificiale in data analisi e diagnostica che aiutare il vostro staff. In fact, in the last three years at Afidea we invested a lot in innovation and specifically in the selection and validation of CE Marked artificial intelligence solutions with clinical, operational and commercial impact on our daily activities. That's why I will show you how we brought efficiencies to reduce the burden of our staff and to make them faster and more motivated every day. Let's meet at a Reuters Total Health at the Europe Conference on the 30th of November. Thank you.